Ammonta a 3 milioni di euro il finanziamento stanziato dal Ministero dell'Economia e Finanze per il progetto Disturbo di Spettro Autistico dell'Università degli Studi di Messina. La ricerca mira di individuare i biomarcatori, elementi che indicano la presenza di una determinata patologia, per personalizzare le terapie esistenti sulla base dei deficit presenti nel singolo individuo e per lo sviluppo di nuove terapie farmacologiche e riabilitative. Responsabile del progetto, il professor Antonio Persico, ordinario di neuropsichiatria infantile del Policlinico. È un grande risultato, afferma, non solo per l'Ateneo ma per tutta la città. Può essere l'inizio di un percorso importante in cui l'Università di Messina e il Policlinico rappresentino un pilastro in grado di garantire alla cittadinanza servizi affidabili. Le somme stanziate sono previste dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese all'interno della legge di bilancio 2017. Complessivamente sono stati finanziati 10 progetti nel campo della ricerca e altri 5 in quelli dell'edilizia sanitaria. Tra questi ultimi il finanziamento di 91 milioni al centro neurolesi Bonino Puleio. Questa è una tappa fondamentale, commenta il deputato nazionale messinese di area popolare Vincenzo Garofalo per la realizzazione di quel progetto che vuole Messina, capitale mediterranea del Polo delle Neuroscienze.